non stanno venendo 10-25 ma che superfici c'è poco roma non dico 10-25 e più questa non scelta e più questa non scelta e più o prego e più o prego te ho avuto e più o prego si manucata n'authierta si sta a vederli da scoprì assi andà cantino si celeva a volte sembro che oggi che sta sta volando non c'è più cosa di più questo è normale questo è il sugarello non è scontro e non rimasta, ho fermato e rimasta sta mangiando è dietro, secondo altri è scontro è scontro è scontro è scontro quando scende quel momento ancora ancora è scontro ahhh guardi che colori alu a 5.15 stai l'Antonio a 5.15 a 5.15 stai l'esend a 5.15 stai l'esend a 5.15 stai l'esend a 5.15 stai l'esend a 5.16 stai l'esend a 5.15 stai l'esend a 5.17 stai l'esend a 5.14 stai l'esend Sì Quattro Quattro Oh, 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 quando vengo? Ce l'hai? Eh, No, vai, vai, non ti preoccupare, mince da qua, è uno e solo. Oh, 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 oh. Che pezzi, scombe jo! Super bad! che cosa tira strano tira strano come viene esbombro si 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 niente si 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 ci si 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 guardi subito è meglio proprio qua questa zona a Vena arriviamo vicino è pieno? fondo, mezza acqua anche gala ah, vedi fondo già? no, a mezza acqua non sono arrivato anche mezza acqua liberata ciao ciao